Il modello romantico rimane un modello inflazionato. Il modello romantico, ma che risale ancora più indietro al medioevo, l'espressione del desiderio era proprio senza ero, senza corporità. Beatrice, la donna angelicata. E già allora c'è una riflessione tantesca sul fatto che il dare parola all'emozione dell'amore dipende dai modelli culturali di riferimento, dalla lettura dell'angillotto. Ma proprio nell'educazione sentimentale di Robert il modello romantico a cui si rifà il protagonista, ma anche Madame Bovary, entra in crisi. Nel confronto con la realtà, la realtà pare molto più prosaica. Il modello romantico rimane sull'espressione di un desiderio poco corporeo. Quindi l'educazione sentimentale come può riconciliare invece l'espressione del desiderio, dell'urgenza, dell'irroguenza, della passione del desiderio. C'è il corpo spavente in qualche modo, continua a spaventare. Come si concilia l'espressione del desiderio, che il modello è sempre il desiderio della distanza, dell'assenza, eccetera, e di mancanza delle corporità, con invece una dimensione più consumistica, chiamiamola così, della corporità e dell'eros. Dove ci sono modelli letterari di finzione? I modelli ci sono, perché comunque i modelli vengono, cioè, i ragazzi sono tempestati di modelli. Cioè così come stai cercando di, piano piano, a livello globale, di combattere il razzismo introducendo attori di colore, anche dentro storie per bambini, in cui chiaramente per epoca storica è impossibile che ci fosse una persona di colore, ma adesso è proprio sistematica questa visione. La pubblicità, le cose, le favole, i bambini, lo schiaccianoci è di colore. Lo stanno facendo tanto, dico, ma la stessa cosa non si potrebbe fare anche sull'educazione sentimentale. Diciamo molto alto, come proposta, però è da lì che vengono le grandi trasformazioni, secondo me. Però sta credendo. Cioè, io credo che Netflix sia il principale antagonista delle spinte conservatrici che ci sono in giro con il mondo. Cioè, se ci farà una qualche possibilità di salvarsi dal fascismo prossimo venturo globale, secondo me non sta nei movimenti politici, perché noi abbiamo una generazione, quella fino ai quarantenni, verlusconizzata. Quando la destra, quando quelli di destra dicono che la cultura è stata egemonizzata, continua ad essere egemonizzata dalla sinistra, eccetera, è una stupidaggine senza senso, perché sono trent'anni che la cultura la fa la De Filippi in Italia. La cultura nel senso di introduzione, comportamenti, modelli, fornitura di modelli, eccetera. Adesso io dico De Filippi, tutto quel mondo. Questo modello qui è l'intrattenimento. Cioè, tutto è intrattenimento. I rapporti tra le persone sono intrattenimento. Evasione. Cioè, tutto serve ad evadere. Ma anche le questioni che riguardano l'occupazione, cioè, vuol dire, le robe più concrete. E poi ci sono dei temi che sono assolutamente rimossi. Cioè, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la prima causa di morte, questo è un dato che io ho prima del Covid, cioè 2020, prima del Covid la prima causa di morte nel mondo erano le malattie cardiovascolari, secondo posto gli incidenti stradali. E, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dicevano, nel 2020, tra vent'anni, cioè nel 2040, la prima causa di morte sarà la depressione. Quello che noto è che il discorso pubblico non si domanda, per esempio, come si fa ad affrontare questo problema, che è la prima causa di morte tra, a questo punto, dieci anni, direi, non più venti, no? L'altro esempio che faccio spesso è nel mondo soffrono e muoiono per fame, ormai, un terzo delle persone che soffrono e muoiono per troppo cibo. Allora, tutto questo cosa c'entra con l'educazione sentimentale? Eh, cavolo, c'entra tantissimo, perché tutta la nostra vita è fatta di intrattenimento, che per certi versi è un bel vantaggio, perché la gente si suicidava, perché non sapeva cosa fare la sera. Cioè, adesso, comunque, tra YouPorn e Netflix, sbagliamo, insomma. Però, questo genera una competizione continua, che è continua l'apertura di conflitti. Questa cosa dell'intrattenimento e di come si rapporti con il conflitto mi sfugge un po', nel senso che l'intrattenimento mi sembra quasi l'opposto del conflitto, nel senso che è esattamente ciò che accomoda l'intrattenimento, fa piacere a tutti. Ma il conflitto è intrattenimento, se no, cioè, quando vedi due litigare dalla De Filippi, uomini e donne... Adesso ho capito che ha quello che faccio non c'è il riferimento. Nei tol-show tutti visticciano continuamente. E tutti che guarda! Non è conflitto! Non ha ragione lei! Ho capito! L'amici, no? Che dovrebbe essere una scuola, si fonda tutta quanta sulla competitività estrema e sul conflitto. I giudici, cioè i maestri, visticciano continuamente tra loro. Sarebbe come passare un modello in cui i genitori visticciano tra loro sull'educazione dei figli. Questa è la cosa peggiore che può accadere. Certo, certo. Su questo credo che non ci possa essere discussione. La competizione è conflitto continuo con tutti, compreso il tuo partner, la tua partner, cioè comprese le persone di cui ti innamori magari. E come fai a innamorarti se non ci sono più le parole per dirlo? Cioè Meneghello, che è uno scrittore che io adoro e che credo sia uno dei più grandi scrittori del Novecento italiano, dice che morendo una lingua non muoiono soltanto certi modi di indicare le cose, ma muoiono le cose. Allora, se muore la parola piatto probabilmente troveremo un altro modo di indicare il piatto o la forchetta, ma i sentimenti. Cioè, se muoiono le parole per dirlo non ci sono più. Cioè, facciamo molta fatica, non si capisce. E quindi una possibilità probabilmente è intanto raccontare delle storie, perché i sentimenti sono una roba complessa che non si possono definire ma e che quindi bisogna raccontare. E il posto dove si racconta sono Netflix. Io non ho mai capito che cos'è educazione sessuale, per esempio. Ho un esempio perché quando facevo terza media, io ho fatto terza media nel 69, quindi era proprio... Progressisti. E beh, settimo, uè. E decidono di fare l'educazione sessuale. E l'educazione sessuale è consistita nel parroco che è venuta a parlare per un'ora. La palestra era gremitissima. Non vedevamo l'ora di andare all'ora di educazione sessuale. E se io ti dovessi dire, l'unica cosa che mi ricordo di quella lezione di educazione sessuale del parroco è il preside seduto di fianco con la sigaretta, si fumava a scuola, che ha acceso la sigaretta quando il parroco ha cominciato a parlare e poi è rimasto così per tutto il tempo con la sigaretta che si consuma. E tutti noi studenti concentratissimi sulla sigaretta, anche perché quello che diceva il parroco era assolutamente non interessante da nessun punto di vista. Quindi, con questo trauma di... Questa è una bella storia. Con questo trauma di... Potresti partire di lì. Sì, sì, ma l'ho già scritta anche per lei. Con questo trauma di educazione sessuale io mi sono portato dietro tutta la vita l'idea che l'educazione sessuale te la fai con gli amici che ti dicono come funziona, quelli che ci arrivano prima, quelli che ci arrivano dopo. Shakespeare aveva già capito tutto. Ben voglio non ha ancora capito che esistono le ragazze, Romeo ha già capito che esistono le ragazze. Ma il rapporto quindi tra loro muta radicalmente perché c'è quel momento lì in cui ci sono quelli che hanno capito che esistono le ragazze e quelli che non hanno ancora capito. E quindi i rapporti che si sono tenuti fino all'ora mutano, mutano profondamente e Shakespeare fa il catalogo entomologicamente con lo spillone stacca il momento in cui Romeo si distacca da ben voglio perché tutto quello che hanno fatto fino a quel momento lì, tutte le loro abitudini di gioco non sono più valide perché a quell'altro a Romeo interessano le ragazze e all'altro non interessano ancora. infatti glielo dice c'è la prima scena in cui loro due si incontrano il dialogo in cui la madre di Romeo chiede vedi che cosa gli è capitato tu che sei il suo amico. Cioè la cosa più stupida che può fare madre Montecchi perché dice perché l'altro non lo sa e se c'è qualcuno che non può saperlo è proprio a ben voglia. Romeo glielo dice amo una donna come sarebbe? è un tradimento questo fino adesso no? E quello lì è il momento ma Romeo non è mica innamorato di Giulietta eh? All'inizio Romeo è innamorato di Rosalina sì di Rosalina cioè di una ragazza che non vuole incontrare è come Charlie Brown che non vuole mai incontrare la ragazzina con i capelli rossi perché sta ancora nella fase in cui tu ti sei accorto che esistono le ragazze ma l'ultima cosa che desideri è averci un contatto reale perché hai paura perché come si fa? cioè non ho idea di come si fa ma io credo che nel 2528 sarà ancora così perché questo è la natura umana e Shakespeare è Shakespeare mica per niente perché colpisce qualche cosa che vale per sé prima dicevo l'educazione sessuale io non ho mai capito che cos'era finché non ho visto Sex Education alla serie merita? bravolo a me è piaciuto un sabo perché fa ridere affronta questioni importanti cioè questioni pratiche concrete con una leggerezza per cui tutti i ragazzini tanti guardano tutti quanti hanno visto Sex Education che non sa niente ma quello dove c'è la mamma che è la madre è una sessuologa e il figlio non riesce ad avere un'attività sessuale regolare non soltanto con le ragazze in generale neanche da solo quindi è proprio problematica la situazione e quindi apre uno scortello di consulenza sessuale e poi lui c'ha l'amico gay il suo amico il suo amico e tutte queste cose qua sono proprio sono trattate bene comunque è come Shakespeare cioè sono ah lui guarda che quando ti succede che scopri le ragazze i genitori non mandate l'amico a chiedere l'amico non lo sa no andate voi cerca di capire come e poi guardate che ragazzi quando vi innamorate della prima di cui vi innamorate non siete innamorati di quella lì siete innamorati dell'amore cioè avete capito che c'è questa roba qua che non sapevate che esisteva che c'è